Questo programma vi è offerto da Onoranze funebri Amadeus Grazie a tutti Buonasera, ben trovati a Meta Weekend Avete visto le immagini di introduzione Che ci portano nel mondo delle pietre preziose Dei minerali e poi anche della lavorazione Che porta alla realizzazione di gioielli e di monili Insomma, vedete, parleremo di tutte queste cose Con gli ospiti che vi presento subito Abbiamo con noi Roberto Zucchini, geologo Buonasera Roberto, buonasera E poi abbiamo con noi Andrea Mocchiutti Un altro geologo Oggi facciamo il pieno, il pieno di geologia In effetti E io partirei proprio da Roberto Zucchini E parlare di minerali Innanzitutto ti chiederai la cortesia di definirceli Che cosa sono i minerali Quali sono le caratteristiche fisico-chimiche Le proprietà Quali possiamo considerare le differenze Fra minerale e pietra preziosa Anche un po' nelle definizioni Qui si vedono alcuni minerali Quindi nel banco qui vicino E quindi si capisce subito Che c'è un elevato ordinamento Degli atomi nello spazio Quindi hanno una certa composizione chimica Sono generalmente sostanze inorganiche Anche se sono previsti Nella classificazione Circa una cinquantina di sostanze organiche Come l'ambre, la zuccerite Ma generalmente sono sostanze inorganiche E ha un elevato ordinamento Anche qui la definizione non è così precisa Perché consideriamo anche sostanze Che sono amorfe come l'opale E quindi non hanno una disposizione degli atomi ordinata Tra tutti i minerali Non tutti sono gemme Le gemme sono dei minerali Che hanno una certa durezza Un certo colore Una certa rarità E per questo sono stati scelti Dall'uomo Per adornarsi E fare dei monili Gemme Qui stiamo vedendo tra l'altro Un po' di Opali Questo è un berillo C'è fornito acqua marina Sì E quindi sono tutti minerali Che noi notiamo Che poi possono essere tagliati E diventare delle gemme E' chiaro che anche qui dovremmo fare una distinzione Non tutti i minerali che potrebbero diventare gemme Lo possono essere perché all'interno ci sono delle impurità Ci sono delle fratture E quindi che riducono il pregio della gemma E quindi possono non essere così attraenti come altri Quanto ci mette la natura a fare una meraviglia di questo tipo? Ma diciamo che i cristalli più grandi nella cueva dell'os cristallos in Messico Che sono circa 12 metri del peso di 55 tonnellate Ci hanno impiegato circa 60 mila anni 90 mila anni E sono i più I più grandi Che corrisponde anche ai più antichi? No Non penso che ci sono i più antichi Ma sicuramente i più grandi sì Sono di solfato di calcio Non sono quindi così preziosi Ma sono preziosi dal punto di vista scientifico Ecco dal punto di vista fisico come si formano? Con la pressione? Ma ci sono La genesi dei minerali Rientra in tre gruppi O genesi sedimentaria O di precipitazione chimica Oppure di solidificazione da un magma E' chiaro che quelli sedimentari Non sono così Non danno luogo a dei minerali Perfettamente idiomofi, cristallizzati eccetera Generalmente quindi nella nostra regione Purtroppo non ne abbiamo di così belli Diciamo che la genesi invece Di precipitazione chimica un po' meglio Come dal punto di vista della deposizione di minerali Ma soprattutto La solidificazione di un magma E processi metamorfici E idrotermali Sì Danno il magma in questo periodo? No, purtroppo La nostra regione E gran parte delle nostre rocce O quasi la totalità Sono di origine sedimentaria Sì Ecco Dicevamo che la differenza con le pietre preziose È solo una definizione nostra Nel senso che Oppure Cioè ci sono proprio delle differenze sostanziali Beh innanzitutto una gemma deve essere bella Quindi è solo una questione estetica Sì Estetica La durezza ovviamente Perché non deve rigarsi facilmente E poi la rarità Queste sono le cose che sono fondamentali E che fanno definire Questa è una pietre preziosa Invece quest'altro no Bene E allora invece con Andrea Mocchiuti Entriamo proprio nel cuore della questione Delle pietre preziose Cioè adesso Qui nella scheda Come si riconoscono Dove si trovano Sentivamo parlare del Friuli Venezia Giulia Non siamo proprio al top No? Però insomma qualcosa ci sarà E poi quali sono le caratteristiche Come definiamo queste caratteristiche petrografiche Durezza, purezza, i colori Sono tutte caratteristiche Che gli danno proprio quel valore Che poi vediamo trasformato Tra l'altro avremo due contributi esterni Registrati proprio da chi ci lavora Con queste pietre prezioni Sì è vero La nostra regione ha tanti pregi Ma obiettivamente come pietre preziose Non ce ne sono E' vero che anche l'Italia Non ha moltissime pietre preziose Dobbiamo andare solitamente in Africa O in Sud America O in Canada O in Unione Sovietica Per trovare i giacimenti più importanti I giacimenti partiti diamanti Piuttosto che andare in Colombia Per trovare gli smeraldi Piuttosto che andare in Brasile Per avere nello stato di Minas Gerais Praticamente un po' lo scibile Della mineralogia E comunque un aspetto importante Di minerali È che possono essere apprezzati Sì è vero come gemme Tagliate che poi portiamo al dito Ma possono essere apprezzati Anche proprio come Proprio risultato Aspetto della natura Il bello Per ogni collezionista di minerali Il bello è che ogni pezzo è unico Ogni pezzo ha una sua caratteristica particolare Che lo rende unico Proprio come elemento naturale È vero che quindi In tutte queste cose Una cosa fondamentale Sicuramente è l'estetica Cioè deve piacere Deve essere anche particolarmente In grado di riflettere la luce E quindi ecco che diventa importante Nella scelta dei minerali E che dei minerali Che poi possono diventare delle gemme Quindi che andranno tagliati Sicuramente il colore La limpidezza Ma è strategico anche la durezza Per la durezza c'è una scala La scala di Moss Che classifica da 1 a 10 La durezza dei minerali E che va proprio da 1 Che è il talco Di fatto è un minerale Che si può segnare con l'unghia Al diamante Che per eccellenza È il più duro di tutti E che riesce invece A tagliare A segnare tutti gli altri È chiaro che È un minerale Molto resistente Può essere portato Al dito Ogni giorno Può subire Qualsiasi tipo di operazione Senza rovinarsi È anche vero Che ci sono delle pietre Questo che vediamo Uno smeraldo Che sono estremamente belle Anche resistenti Nella scala di Moss Ma sono anche molto fragili Lo smeraldo in particolare Se avete un alleno di smeraldo E vi cade a terra Rischiate di fare un danno Irreparabile Veramente In un attimo Ecco però Quello che è importante È sicuramente La bellezza La rarità E quindi chiaro Meno ce ne sono E più Diventano anche preziosi E costosi Ma sicuramente Un aspetto estetico E di piacere Senza poi contare Tutta una serie di Così Di Anche di storia Che sta dietro Un po' I minerali Che nel tempo Poi si è sviluppata Questo era ad esempio Dell'oro nativo Queste qui sono Delle ametiste Ecco diciamo che Il mondo per fortuna Il mondo dei minerali È estremamente vario E permette Un'amplissima Un'amplissima varietà Sia nelle forme Nei colori Nella dimensione Dei cristalli Non è sempre detto Che i cristalli più belli Siano quelli più grandi Ci sono dei cristalli Molto piccoli Che invece sono Estremamente preziosi E rari Questa ad esempio È una pirite Che è un minerale Abbastanza comune Ma con questi cubi Piuttosto grandi Più difficile da trovare O le acque marine Ecco tra l'altro Scusa Nella storia Ci sono minerali Quindi anche poi pietre Che magari erano Più preziose Perché se ne trovavano poche Poi col tempo Si sono trovati Giacimenti Più abbondanti Magari hanno perso Un po' Del loro valore Leggevo di alcune pietre Che sono diventate Più abbondanti Fra virgolette Non perché si hanno cresciuto Ma perché sono state trovati Beh ci sono delle pietre A cui è stato dato Un potere particolare Ad esempio L'ambra L'ambra ai tempi dei Romani Era importantissima Perché toglieva il malocchio Perché dava tutta una serie Di forze Che andavano al di là Del minerale in sé Tra i geologi Si dice sempre Che se un minerale Ha un'energia Beh forse meglio Stagli alla larga Perché evidentemente Ha delle radiazioni Però insomma Poi le credenze popolari E anche adesso Comunque Ognuno ha il piacere Di avere un qualche cosa Che gli dà Un piacere Per l'impossesso Ma anche per avere Proprio qualcosa di bello Tra le mani Beh ad esempio Voglio dire Ci sono delle pietre Che chiaramente Si sono nel tempo Si è scoperto Sì Di essere in quantità Importanti Dipende sempre dai giacimenti Perché anche i giacimenti Cambiano Si esauriscono E a seconda delle quantità Anche il prezzo sul mercato Può variare Ad esempio Una volta Il Sudafrica Era la patria dei diamanti Non è più la patria dei diamanti Adesso l'Unione Sovietica La patria dei diamanti Piuttosto che il Canada Quindi le cose cambiano A seconda dei giacimenti E anche dei pezzi rari Che si riescono a trovare Ecco tra l'altro È anche triste Per queste meraviglie Ci sono state guerre Anche in certe zone dell'Africa Sono state grandi 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 violenze Questo bisogna ricordarlo Insomma Dietro a questa ricchezza Che tra l'altro Per quanto riguarda i diamanti Diventa anche Merce di investimento Vero e proprio Come l'oro Come altre Ci sono ancora delle guerre E quello che non pensiamo Noi è che quando abbiamo Un anello al dito Un diamante al dito Non pensiamo alla storia Che c'è stata prima C'è stato qualcuno Che ha scavato A mani nude Per trovarlo Che l'ha venduto Grezzo A un compratore Che a sua volta L'ha passato ad un altro compratore E è arrivato poi A chi ha tagliato il diamante Da quel diamante grezzo Ne ha ricavate decine Alcuni di questi Molto belli Altri di scarso valore Quindi Il diamante Che abbiamo noi al dito A quel punto È un percorso Una storia incredibile Tante volte Forse è meglio Nemmeno sapere bene Quello che c'è stato Certo che quello Che poi ammiriamo È bello Ed ha un valore Ed ha un valore Anche economico Nel tempo che si tramanda Le pietre migliori In effetti Hanno poi anche Un valore economico A livello di investimento Ecco Nei tuoi giri in grotta Hai mai incontrato Le grotte sono degli scrigni Di minerali Assolutamente Non hanno valore Nel senso che Solitamente sono carbonati Quindi Calcite Gesso Però da vedere Sono spettacolari Beh la grotta Che citava prima Roberto È grandiosa È veramente un geode È come entrare All'interno di un geode Ed è stupendo Ne hanno trovati da poco Anche in Spagna Di dimensioni importanti Quindi per un geologo Per uno speleologo Entrare dentro un geode Beh ragazzi È un po' il sogno Di una vita Va bene Noi andiamo in pubblicità Ci fermiamo Rientriamo Con questa bella immagine Di Andrea Rientriamo Con le previsioni Del tempo E rieccoci in studio Con Meta Weekend Allora andiamo a dare un'occhiata Al tempo che farà Nel fine settimana E poi la tendenza Vi dico subito La tendenza ancora al secco Intanto Andiamo a vedere L'immagine Che ci mostra L'alta pressione ancora E poi quella linea blu Questo impulso di aria fredda Di cui vi parlavo ieri Non molto fredda Anche stamattina Ve ne avevo accennato Questo è un impulso Che porterà via Quelle nubi basse Che ci sono state un po' oggi In pianura Per lo zero termico Molto alto C'erano oltre 9 gradi Alla quota di 1500 metri Ecco questo riporterà La temperatura un po' Nella norma E quindi Diciamo Dopo un po' di nuvolosità Torneranno le schiarite In particolare domenica Direi di vedere Proprio il sabato Un cielo Tra Nuvoloso Localmente anche Coperto A tratti Però Il rischio di precipitazione È praticamente quasi nullo Possibile Qualche sporadica Goccia Di qua e là In particolare Sulle zone di sud ovest E Qualche fiocco Sulle Prealpi cariche Ma in realtà È molto basso il rischio Vedete i venti Da nord est Con la Bora Sul gruppo Fili Trieste Bora che potrebbe essere Anche moderata Temperature che risalgono Leggermente I valori minimi E invece stanno Più o meno Là Stazionare In quelli massimi Zero termico Da 2600 metri Di oggi scende A 1300 Passiamo pure Ecco la domenica Con il sole Che torna Su gran parte La regione Anche se Potrebbero insistere Sulla bassa pienura Pordenonese Sulla costa Più occidentale Della nostra regione Un po' di addensamenti Per il resto Sereno Poco nuvoloso Temperature Di nuovo In lieve calo Nei valori minimi Cambia poco In quelle massime Però lo zero Se non altro Se ne sta sotto I 2000 metri Per ora Perché tornerà A aumentare Detto dei venti Deboli orientali Vediamo pure Lo sguardo più ampio Sul Triveneto Per dire Vabbè Di sabato Abbiamo già detto Per la nostra regione Da aggiungere cosa Il tempo migliore Sull'Alto Adige E qualche possibile Debole pioggia Invece sulla pianura Veneta In particolare Sul settore meridionale Di confine Con l'Emilia Romagna Invece domenica C'è qualche nube In più Sempre su quelle zone Mentre invece Per il resto Bel tempo C'è lo sereno O poco nuvoloso Andiamo pure Veloci sui venti In realtà Avrei dovuto iniziare Perché è iniziato L'inverno meteorologico Con la situazione Della neve Sulle nostre montagne Che però È zero Praticamente Oggi è uscito Il primo bollettino Dell'ufficio Neve Valanghe Ma i dati Sono ancora Di scarso interesse Allora Vedete invece I venti orientali Con anche moderati Su diverse zone Del bacino Alto Adriatico Segnalavo già La possibile Bora Sul gufo di Trieste Niente di Di così forte Però insomma Un po' di Bora Sì Mare Può arrivare Fino a mosso Andiamo a vedere La domenica Sono sempre Nord orientali I venti Però in questo caso Tendono ad essere Più Deboli Su tutto Il settore Che ci interessa E quindi il mare Diventa anche poco mosso E possiamo andare A dare un'occhiata Invece Alla tendenza Perché In molti si chiedono E anche mi chiedono Ma cosa succederà Con la neve Con la neve Per ora Non succede proprio nulla Non ci sono condizioni Per Perché si possa vedere neve Parlo di neve anche in montagna Non qua In pianura La situazione Come vedete Anche mercoledì prossimo Che tra l'altro È la vigilia Del ponte Dell'Immacolata È ancora di alta pressione Alta pressione Peraltro Con masse d'aria Che tendono A non essere più Così fredde Soprattutto Verso la fine Della prossima settimana Quindi Possiamo considerare Ancora Sette giorni Senza Piogge E senza Nevicate Lo possiamo vedere Dai due riepiloghi Anzi no Prima dagli spaghetti Dai scenari di lungo termine Guardate la linea bianca Per ora È così un confine Che ci diamo Nel tempo Relativo un po' Anche l'attendibilità Di questi grafici Comunque Fino a Quasi metà mese Non dovrebbe succedere nulla Però notate Quella gobba Verso l'alto Del grafico superiore Che indica Una ripresa Ben sopra la media Delle temperature In quota E questo È un segnale Che magari Non va tanto bene A chi deve sparare La neve In montagna Passiamo pure Allora Ai due riepiloghi Ecco qua Bel tempo Nei primi tre giorni Possiamo considerare A parte qualche nube Il cielo sereno Con temperature Che in pianura E anche nei fondovalli alpini Sono basse Di notte Nel senso Anche sotto lo zero Questi sono i valori estremi Comunque Fino a meno tre Possibile in pianura Vedete lo zero termico Invece che ricomincia a salire E si riporta Anche sopra i 2000 metri Qualche nebbia martedì Locale Negli spaghetti Ecco qua Cosa succede Sale Fino a che Sabato e domenica Ricominciano le inversioni Come è successo oggi E così Fa pur Abbastanza freddo Al suolo Però in realtà In montagna Non fa freddo E così tornano le nubi basse Qualche nebbia Le foschie Tra l'altro Oggi da segnalare Veramente Uno strato più caldo Intorno a quota 1100 metri C'era un'inversione Abbastanza evidente Io direi che abbiamo finito Col meteo Torniamo con ore 7 Dal lunedì naturalmente Invece Andriamo chiuti Parliamo un po' della storia La storia umana Dice che Siamo sempre stati Molto attratti Da queste pietre preziose Ma perché Questa attrazione Solo per una questione Decorativa Abbiamo individuato Che potevano Dare un rango diverso Cioè Cos'è che secondo te Ha fatto scattare questa mola Che tutt'oggi Nonostante le evoluzioni E tutto Insomma È ancora Ancora bella Leggevo di un'attrice Non so Di che sera Un'attrice Di spettacolo Che l'altro giorno Si è presentata Con 47 pietre preziose Sul vestito Insomma Un dato interessante In effetti Quello che colpisce Dei minerali È sicuramente La loro La loro bellezza Il loro aspetto Il fatto che brillino Il fatto che Durino nel tempo Che possono durare Più di quello Che possiamo durare noi Che possono essere tramandati Che possono essere Qualche cosa Che migliorano In qualche maniera Il nostro aspetto E anche Qualche cosa Che ci dà In un certo senso Sicurezza Se non energia E soprattutto Quello che è più bello Credo È il piacere Della scoperta Perché io mi immagino Anche gli uomini Di un tempo Come appunto Andando in giro Per i campi O per le strade A un certo punto Colpivano un sasso Nella maniera giusta O trovavano Una nicchia Dentro la roccia Scoprendo dei cristalli Particolari Beh insomma Il piacere Della scoperta È notevole Per cui diventa Un qualche cosa Di estremamente Estremamente Di curiosità E anche di avventura E anche noi È vero che se in regione Non abbiamo minerali Di pregio Scoprire un bel cristallo Di calcite Un bel cristallo Di quarzo È comunque Un'emozione Io ho in mano Un sasso Che apparentemente Sembra null'altro Che un ciotolo E che in realtà È un geode Il geode all'interno È ricco di cristalli In questo caso Sono cristalli di quarzo Non hanno un valore particolare Ma sono estremamente Belli da vedere Ed è un qualche cosa Che ci crea sorpresa E che ci dà Veramente un po' La passione E la voglia di cercare Che credo sia insita Nell'uomo da sempre Ecco Andrea Noi siamo andati E tra l'altro Ci siamo parlati Abbiamo preso contatto Con Uno Un laboratorio Un laboratorio Che fa gioielli Quindi che mette insieme In metalli Con queste pietre preziose E siamo andati Presso A Cividale Presso Il laboratorio Orafo La Torre Margherita Cozzi Maestra Orafa E Francesca Frappa Orafa Beh queste due Queste due artiste Diciamo Possiamo chiamarle così Ci mostrano Prima un po' Qual è Il loro rapporto Con queste pietre E la produzione Poi dopo Ci sarà un secondo intervento In cui vedremo Proprio Buonasera Sono Margherita Dal laboratorio Orafo Di Cividale E San Vito Tagliamento Sono un'artigiana Da 25 anni E sono qua A parlare Dei miei prodotti Dove Utilizzo Delle pietre Al grezzo Attraverso La modellazione Della cera Fino al pezzo Finito In metallo Che sia in oro O in argento La maggior parte Delle pietre Che io utilizzo Sono le druse Perché hanno Questa superficie Di roccia Piena di cristallini Molto luminosi Che rendono L'oggetto Particolare E unico La drusa Di citrina È la pietra Che uso di più Proprio perché È molto femminile Rispecchia anche Il mio carattere Che è molto Solare E caldo E anche Nei miei pezzi Esprimo Tutta Il mio carattere Tutte le emozioni Nei miei prodotti Utilizzo Varie pietre Molto irregolari Molto insolite Ad esempio Abbiamo Un boulder Di opale Che arriva Dal Madadascar Ed è sempre Unico Molto particolare Perché ha Queste sfumature Dall'arancione Al giallo E quindi Rispecchia sempre Il citrino Questo calore L'energia Che emette E poi Rispecchia Un po' Anche Il colore Delle foglie Infatti Nei miei oggetti Tendo a fare Queste forme Un po' Irregolari Un po' Movimentate Poi anche Nelle pietre Dure Come collane Utilizzo Sempre l'effetto Molto grezzo Opaco Proprio perché Si armonizza Molto Col prodotto Artigianale Dove Dimenticavo Nel mio prodotto Artigianale D'argento Oro Utilizzo Sempre Delle basi Longobarde Proprio perché Parliamo Proprio di Cividale Del Friuli Dove Per un discorso Storico Ci leghiamo Ai Longobardi Un'altra pietra Che utilizzo Che è Un acquisto Recente Cobalto Calcite Che è una pietra È un minerale Composto da Ferro Cobalto E cobalto E ha questo effetto Sempre cristallino E ha diverse sfumature Dal rosa Chiaro Al magenta Carico Ad esempio In questo pezzo Ho cercato di fare Un effetto Più bronito Per accentuare La lavorazione La lavorazione Del metallo Ma anche Della pietra Tutti i pezzi Che io Realizzo Sono unici Quindi anche Le pietre Che utilizzo Sono uniche Anche i tagli Sono tutti Tagli Irregolari Ad esempio Da poco Ho acquistato Dei diamanti Grezzi Che verranno Montati Sempre Nell'argento Perché Hanno questo effetto Irregolare Quindi Giustamente Hanno bisogno Di una struttura D'argento Non d'oro Per accentuare Proprio sempre L'effetto Grezzo Della pietra La passione Delle pietre È venuta Negli anni Quando ho aperto Utilizzavo solo I metalli E le solite pietre L'amettista Il diamante Lo smeraldo Che alla fine Sono sempre Le solite Commerciali Poi Andando nelle fiere Ho cominciato A apprezzare Proprio l'effetto Così grezzo Irregolare E poi Proponendolo Al cliente Ho capito Che anche Il cliente Cerca Il pezzo Unico Ma anche La pietra Unica Che non sia La solita Vista Nei giornali O commerciale Nelle vetrine Eccoci qui Andiamo in pubblicità E poi ci ritroviamo Come The Weekend Dunque con Roberto Zucchini Riprendiamo un po' Il discorso Sui minerali Per parlare un po' Della classificazione Cioè di come si classificano Qual è la diffusione Nel mondo Quali sono forse Anche poi I luoghi Dove c'è maggior presenza Quali anche Tipi di ambiente Diciamo E Però facciamo anche Un discorso locale No? Il Friuli Venezia Giulia Ne abbiamo già accennato Prima Non è che abbiamo Proprio Una grande Ricchezza O varietà Questo ciò Direi tu Però insomma Vale la pena Conoscere quello che abbiamo Anche sul nostro territorio Sì Come abbiamo accennato Prima I minerali Devono essere duri Quindi I silicati Diciamo così Quelli che contengono Silicio Ossigeno E ferro Magnesio Come per esempio I granati Hanno quella durezza Quel colore L'uvarovit Logrosularia Che gli permette Di essere considerati Delle gemme La tormalina Anche Nera Tendenzialmente Utilizzata più Nel meridione Perché il nero Viene portato Più facilmente Sì Interessante questo Mentre altri Preferiscono Delle colorazioni Più vivaci Certamente Abbiamo una varietà Di minerali Incredibile Proveniente Da tutto il mondo Soprattutto dal Brasile Ovviamente I diamanti Dal Sudafrica Ma Come ha detto Il collega Più Adesso Dalla Cina E dalla Russia E ovviamente Si mantiene Il prezzo Cioè L'immissione Sul mercato È Quantificata In maniera tale Che non scendano Mai Come col petrolio Certamente Quindi sono poche Le compagnie Che detengono Tutto il mercato Del diamanti E quindi Hanno Tutto l'interesse Di mantenere Inalterato Il valore Anzi Che si proietti Poi Nel tempo Certamente I diamanti Di investimento Sono pochi Perché Tra tutti i vari diamanti Quegli investimenti Sono quelli più puri Quelli che hanno Certe caratteristiche E quindi Non tutti Ecco Possono essere Però abbiamo visto Prima dal laboratorio Anche c'è Proprio Il piacere Di costruire Di realizzare Degli oggetti Anche Non sempre Con pietre Preziosissime Come Diciamo Come Il diamanti Pur Però Con delle Creazioni Che alla fine Rendono comunque La bellezza Della natura Poi ci metti Un po' di creatività Quindi Ci sarà un mercato Immagino anche Di minerali Relativamente Minori Certamente Certamente Anche perché Il quarzo ammettista Comunque Ha una colorazione Molto bella Poi il citrino Il fumè Quindi Sono Dei minerali Che Appariscenti Che possono piacere Ma ce ne sono Tanti altri Smeraldo E Qui abbiamo Per esempio Gli opali Lo pare Arlechino Lo pare Rosso Certamente L'oro Non metteremo mai Un oro dendritico Qui Appeso Se non così Un geologo A cui la passione Di non rovinare Una pepita Questi sono Smeraldi Ecco Bisogna stare attenti Al Al fatto che I minerali Non siano Ortefatti Ci sono Di minerali Ecco Invece Ci sono Anche C'era Proprio Anche Una Costruzione Artificiale Di vecchia data Anche La riproduzione Per esempio Di diamanti Forse Non solo Di diamanti Diamanti artificiali Con celle di pressione E poi Anche Lo smeraldo Se abbiamo Uno smeraldo Troppo Perfetto C'è il rischio Che sia Artificiale O altrimenti Ha cifre Spropositate Cioè Questa cosa Che dicevi Del mercato Diciamo Abbiamo fatto Il parallelo Col petrolio Mi fa pensare Che Anche in questo caso Ci sia la ricerca Di nuovi Giacimenti Come col petrolio Per cui Si diceva Da Sudafrica Siamo adesso Con altri Russi Alcina Protagonisti La Cina La Russia E il Canada No? Sono sentito prima Ecco Quindi C'è un po' Questo meccanismo simile Quindi è proprio Un mercato Vero e proprio Da borsa Questo mercato Tutti hanno l'interesse Di poter vendere E che poi Quello che hanno venduto Venga mantenuto Come Quotazione Sul mercato Altrimenti Non Cioè Sono Minerali da investimento E' chiaro che Tra i minerali Possiamo avere Anche Altri Per esempio Questa è una meteorite Si fanno Delle fettine Che Qui si fa Il quadrante Degli orologi Oppure Dei braccialetti Questa è una meteorite Che è caduta Tantamila anni fa Nel deserto Nella Namibia E quindi Ha circa Un chilo Ha un bel peso Ha un bel peso Un bel peso Un bel peso specifico E' costituita Da ferro Da ferro In Friuli In Friuli invece Purtroppo Non abbiamo Minerali Che siano Minerali preziosi Sano dal punto di vista Scientifico Abbiamo Dei minerali Di alterazione Di alterazione Che sono Per esempio La Cualstibite La troviamo Solo qua In Monte Avanza San Giorgio di Comelians In Germania E nessun'altra parte Del mondo Quindi abbiamo Una delle Minerali preziosi Dal punto di vista Scientifico Ecco Dal punto di vista Invece Gemmologico Decisamente no Decisamente no Purtroppo Allora invece Adesso con Andrea Abbiamo chiutti Parliamo proprio Dei diamanti Andiamo un po' Più a fondo Al discorso Dei diamanti La valutazione E anche Ne abbiamo Parte già sentito dire Del rischio Di essere Ragirati Con l'acquisto Di pietre Che magari Sono senza Certificato Vengono prese Qua e là Sì esatto Diciamo che Quando la pietra È naturale È più facile Da riconoscere Perché c'è L'abitus cristallino È su una matrice Quindi è attaccata Alla roccia Da cui proviene Quindi è più Difficile Riuscire ad alterare Un minerale Così come la natura Lo ha creato Mentre una volta Che il minerale E soprattutto La pietra dura Viene tagliata Beh a questo punto La situazione diventa Veramente critica Per i non esperti Perché non è certo Il colore Che fa la differenza Tra una olivina E invece uno smeraldo Sono entrambe verdi Tutte e due hanno Beh uno ha un colore Più intenso L'altro più tenue Ma all'occhio Inesperto Si passa Da una pietra Che vale uno A una pietra Che vale mille E di fatto Il colore potrebbe essere Quasi lo stesso Quindi Molta attenzione Quando ci si avvicina Da neofiti All'acquisto Di pietre tagliate Bisogna veramente Fidarsi molto Delle persone Della sua propria Proprio Limpidezza E anche della qualità E anche della qualità Dell'aspetto Che vogliamo Qui stiamo vedendo Alcuni esempi Abbiamo visto anche Proprio delle carte Che accompagnano Il diamante Come dicevi tu Anche perché In certi casi Diventa anche Di rifugio Questo è un valore Di rifugio Come è l'oro Come altre cose Si possono spendere Veramente Molte migliaia O decine di migliaia Di euro Ecco Qual è il valore Un diamante Molto costoso Parliamo dell'ordine Di Milioni Centinei di migliaia Consigliano Un diamante Di investimento Di non superare I 15 mila euro Consigliano Di non superare Piuttosto Farne prendere Di più Ma non con Una grossa carattura Perché poi Non si riesce A smelcializzare Ah cioè Ho capito Quindi prenderne tanti Ma non superare Quell'importo Ma si prendono Sempre già lavorati Come investimento Oppure si prendono Grezzi No si possono trovare Anche grezzi Per esempio Al Museo Friano Di Storia Naturale Ovviamente L'importante Era prenderlo grezzo Perché lo esponevamo E quindi C'è un mercato Anche del grezzo E' chiaro che Il mercato Di quelli tagliati È tutta un'altra cosa E quindi Sì sì Ecco importante È il taglio Perché ho visto Tante gemme Provenienti Dall'India Tagliate male La tavola E le facce Quindi a questo punto Non abbiamo Tutta quella riflessione Rifrazione Che dovrebbe avere La gemma E quindi il valore Purtroppo Decade Miseramente Decade miseramente Beh insomma Quindi fate attenzione Nel caso Doveste Si 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 può Confondere un topazio Per un quartocitrino Quindi andiamo di nuovo Da 1 a 10 Come valore O a 100 addirittura Quindi veramente Attenzione Beh francamente Bisognerebbe anche essere esperti Voglio dire Cioè vado io Che non ho La conoscenza specifica Che avete voi Cioè non è che Non è che sia semplice No ma è difficile È difficile anche per i gemmologi Voglio dire Si si è difficile Si possono prendere Veramente delle cantonate Anche a persone esperte Anche perché Molte volte non c'è Né il tempo Né la strumentazione Per fare una serie di indagini Molto accurate E vanno fatte solo per pietre Di un certo valore Perché altrimenti Però pensate A quello che viene venduto Molte volte in televisione E veramente Poi potete trovare Le stesse pietre Per prezzi incredibili Alla prima mostra O mercatino dei minerali Dove in televisione Magari la luce giusta E un certo tipo di ripresa Vi fa pensare Che avete Siete di fronte A una pietra Una gemma eccezionale E invece in realtà Avete qualcosa Che vale a dei 10 A dei 20 euro Quindi veramente Molta molta attenzione E poi anche l'aspetto estetico Sempre voglio dire Voi prendete un qualche cosa Perché vi piace Vi piace Vi dà un'emozione Chiaro che se fate Una spesa importante Oltre all'emozione È giusto che ci sia Anche la garanzia Che questo vale nel tempo E che è veramente Quello che state acquistando Dopo parleremo Un attimo anche di carbone E di petrolio Perché ci agganciamo A quella che sarà La puntata della prossima settimana Dopo con Roberto Acceneremo a questo Nell'ultima parte Di Meta Weekend Però in fondo Ha a che fare Il diamante Con il carbone Diciamo Dal nero Al super puro Lucente Trasparente Hanno la stessa Composizione chimica E sempre carbonio Qual è la differenza Andrea? Beh i diamanti Si sono formati Nel mantello A profondità molto elevate In tempi Veramente geologici Anche di miliardi di anni E poi sono risaliti Attraverso Quelli che si chiamano Kimberlitti Fino alla superficie Per questo sono rari Sono in pochi punti Nel mondo Ci sono queste rocce Contenenti diamanti Che sono risalite Fino su da noi Quindi Quello è veramente Carbonio Ma alla massima concentrazione E con una struttura cristallina Il carbone invece È un residuo organico Che si è nel tempo E che ci porta anche Per il nostro abuso All'effetto sera All'aumento dell'effetto sera Noi ci fermiamo Andiamo in pubblicità Poi l'ultima parte Di Meteo Weekend L'ultima parte Di Meteo Weekend Noi torniamo Nel laboratorio Orafo La Torre Di Cividale Questa volta Per vedere Le due Orafo Maestra Orafa Orafa Le vediamo al lavoro E così vediamo Come si crea un gioiello Partendo certo Dalla pietra Ma in realtà Anche da tutto il supporto Che c'è intorno Che è di tipo metallico Andiamo a vedere Musica Qua siamo nel laboratorio Dove realizzo i miei pezzi In questo momento Sono seduta nel banco Dove realizzo il modello in cera È il banco più creativo Alla fine Dove esprimo tutte le mie Emozioni E dove esprimo Tutte le mie idee La parte dei miei prodotti Parte prima dal disegno E poi viene E poi viene Messo in cera Per poi Fare la parte Della fusione Come dicevo prima E qui abbiamo un esempio Abbiamo una parte Di calcedonio Sempre con questo effetto Cristallino Tornando al discorso Che voglio proprio Differenziarmi Dalla solita Gioelleria Nella realtà del laboratorio Ci sono varie attrezzature Che utilizziamo E varie tecniche Come spiegavo prima C'è la modellazione Della cera E poi c'è la sgrezzatura Al banco La saldatura La lucidatura Utilizzando frese Pinze E alla fine E alla fine la lucidatura Nel banco Che seguirà Poi abbiamo anche L'ultrasuoni Sono tutte Varie operazioni Che vengono fatte Per la preparazione Del pezzo Qui abbiamo L'esempio Di un pezzo Appena fuso Con una textura Longobarda Dove c'è il canale Di entrata Della fusione Adesso Utilizzando Seghetti Frese Verrà rifinito Fino Alla parte Quasi finale Dove verranno Utilizzate Delle macchine Per lucidare Per essere montato E realizzato Come ciondolo Come spilla Ad esempio Ci sono parti D'argento Dove Preferisco Realizzarlo Con questo effetto Brunito Non lucido Proprio per Un discorso Più luminoso Per accentuare Anche di più I disegni Del prodotto Questa è la parte finale Invece del prodotto La lucidatrice Dove Prima dal sasso marcio Il rossetto Finale Viene Rifinito Il prodotto Per poi Metterlo In vendita Grazie a tutti Grazie a Margherita Cozzi e a Francesca Frappa per averci ospitato e per mostrare un po' come si lavora con queste pietre. Noi finiamo con Roberto Zucchini, ci colleghiamo in realtà alla prossima puntata. Parleremo di nuovo di cambiamento globale, si rifletto al clima ma in realtà a tutto quello che è il contorno, non solo il contorno, anzi in molti casi è la sostanza legata ad un cambiamento del clima. Parliamo allora con te di qualcosa che ha sempre a che fare con la geologia che è il carbone che è in uso da decenni, decenni, centinaia di anni possiamo dire a questo punto. Qui vediamo anche alcune immagini. Che cos'è il carbone? Quello che ha creato un grosso problema perché naturalmente combusto crea effetto gas serra e anche il petrolio. Il petrolio è liquido però, no? Si chiama petrolio con il suffisso che ci dice che è pietra. Si, sono due rocce, non a confondere con i minerali, sono due rocce organogene, il carbone si forma in depositi continentali di transizione terra-mare, quindi nelle pianure. di giacimenti, il più importante che abbiamo è quello di clodinico e poi abbiamo del giacimento di resiuta di scisti bituminosi, è improprio chiamarli scisti perché è un termine geologico non corretto, patografico non corretto, ma insomma da lì si estraevano per esempio litio-bienzine. Ecco queste sono le immagini che ci hai fornito tu. Sì, queste sono immagini del minerale di clodinico, splendida, se avete l'opportunità di andare a vederla perché innanzitutto vi calate in un ambiente dove è un lavoro duro, si vede il lavoro durissimo, anche pericoloso, spesso si seguivano gli strati di qualche metro e quindi si procedeva con i picconi, con le pale per, fra virgolette, rubare alla montagna il minerale. Per quanto riguarda invece il petrolio, è una regione che è ricca di manifestazioni petrolifere, cioè abbiamo bitume, abbiamo delle rocce probabilmente madri del petrolio, però in realtà petrolio non ce n'è. C'è stato qualche tentativo in passato di sondare? Hanno fatto, sì, dei sondaggi a sud di Udine e poi sul Bernardia per vedere un po' se c'era del petrolio, ma in realtà hanno trovato solo spammature, un po' di gas assolutamente insignificante. In pianura padana, no? C'hanno stati dei... In pianura padana, sì, hanno fatto trivelazione, hanno trovato metano e poi tra l'altro questi giacimenti naturali vengono utilizzati per rimettere petrolio oppure rimettere e immettere benzina e nafta perché noi dobbiamo avere le nostre riserve strategiche. Ecco, ma il petrolio quando viene estratto greggio, diciamo, il greggio cos'è? Non sarebbe utilizzabile direttamente o in teoria anche sì? No, ci sono vari tipi di petrolio. Quello che per esempio in Sicilia gela è un ottimo petrolio. Poi è chiaro che deve subire un trattamento che si chiama cracking nell'ettore di frazionamento, quindi si mette alla base il petrolio e si riscalda il tutto e quindi si fa ricondensare a più livelli finché si libera poi il gas, che non so se avete mai visto, passando per Marghera, in alto che brucia. Ecco, e a ogni piano si ottengono delle benzine sempre più raffinate in definitiva. È chiaro che è un procedimento che può inquinare, è un procedimento che libera CO2 eccetera però. Sì, la stessa combustione che poi è quella civile, non solo civile. Curiosità, quanto tempo ci hanno messo a formarsi i depositi di carbone o quelli di petrolio? Milioni di anni, tant'è vero che sono fonti, quelle che abbiamo definito, non rinnovabili, assolutamente, quindi che andranno perse poi, no? È vero che adesso con le nuove tecniche di estrazione offshore, quindi nelle piattaforme al di fuori delle terre emerse, possiamo indagare altre zone e quindi trovare nuovi giacimenti, però poi si esaurirà. Certamente rimettere in funzione l'attività estrattiva per quanto riguarda il carbone significa inquinare tantissimo. Uno dei più grandi inquinatori ovviamente è la Cina, no? Perché ovviamente ha... E tutte queste grandi potenze emergenti, chiaramente oltre a quelle già esistenti, sì, dobbiamo porre fine. Abbiamo detto tante volte, proprio un po' sarà il tema anche della prossima trasmissione. Appunto non parleremo tanto del cambiamento del clima dal punto di vista dell'atmosfera, ne abbiamo già parlato in altre puntate, ma parleremo proprio di come ci si può attrezzare per limitare il danno che è stato fatto, magari anche fermare il più possibile queste emissioni. Ricordiamo appunto che, insomma, il carbone cos'erano? Non erano foreste? Foreste nel periodo carbonifero, quindi 350, 300 milioni di anni fa. E noi l'abbiamo restituita in atmosfera a velocità incredibile se andiamo a vedere i tempi geologici. Ma siamo arrivati alla fine, non mi rimane che salutare i nostri due ospiti. Grazie a Roberto Zucchini e grazie ad Andrea Mocchiuti per essere stati con noi. Ci rivedremo sicuramente per altri interventi. Intanto, buon fine settimana a tutti. Meteo Weekend torna e non perdetevi anche la prossima puntata, veramente interessante. E poi, ore 7 col meteo, ricominciamo la settimana. Arrivederci. Questo programma vi è stato offerto da Onoranze Funebri Amadeus